Ok, salve a tutti, sono Alex, benvenuti in questo nostro video, luogo bellissimo, e sono dentro a Grotta d'Osmeraldo. Sì, guarda che limpida l'acqua. Ma a 16 metri lunga entra la luce cos'è? Porca miseria! Che roba! Che figo! Hanno acceso le casse! Staraptiti! Ma però quali sono staraptiti, quelli da sopra? Sì. Buon sole, il sole mio, l'affrontare, l'affrontare. Il patatico, il pepe e il sorriso. Questo qua è Celentano. Bella cazzata. Coccodrillo. Questa è la Trinanzi, sembrano le cani dell'Orga nella cattedrale. Mirante, chi di fronte è, Argettina, c'è una pietra sembrano la calezza. Per gli argettini, potremmo sembrano la calezza di Papa Francesco. Papa Francesco, tutti. Che c'entra Matteo Renzi? Matteo Renzi. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Con l'americano. Sopra di noi. Oh. 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 Eccolo. Eh. Oh. 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 no 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 scrivete i commenti hashtag toto hashtag toto ci vuole eee se ti lasciczo lecce l'arango di qua è stata bella la grotta su Meraldo anche se è piccola cioè parti da lì e su questo arrivi la dolce con l'altra parchetta e è finito c'è il presepe sott'acqua lì ci vorrebbe essere Gesù bambino si ferma l'acqua guarda guarda vedi che c'è il bambino lì con tutte le cose lì c'è Gesù vedi che c'è il buon asinello guarda guarda è lì la c'è il buon asinello Giuseppe e Maria e Gesù bambino che acqua ragazzi lì 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 siamo usciti da quella grotta di cacchio e adesso ci dobbiamo imparcare su questa già prima abbiamo fatto ma non sono uscita a filmare lo faccio adesso e niente no adesso che salvo ho proprio cliccato il telefono inizio di spedere tutti sti soldi cioè ciao aspettate dopo era pieno di cinesi ahahahahahah vieni la testa guarda l'acqua qua come guarda ti vedi spontanea guarda si si ciao bello guarda guarda il mare qua cosi pulita e molto pulita ma quant'è alta l'acqua? 3 metri. 3 metri d'altezza. 4 metri d'altezza. Comunque cosa non fa il sole, riflessa una cosa impressionante, meravigliosa. Che fiata! Porca Eva! Eh, ho visto. Comunque questo è l'ultimo vlog, perché domani torno a Dogliani. E da domani, spero, da domenica, incomincio un nuovo frevito dei vitagiochi. Sì! Abbiamo tirato tutto però, ieri siamo andati a Napoli. Tutto ieri a Napoli. Ma dove vuoi? Nooo! Veramente... E' stata offesa. Ma cosa succede? Guardate la miseria. C'è una specie di torre. Però, veniamo qua e non vediamo Napoli. Eh, io ho detto, voglio andare a vedere Napoli. Che bello! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. È proprio nero e bianco. Sì, sì. E' la provincia di Salerno. Da Bostigana, da Bostigana, da Bostigana... E' la provincia di Salerno. C'è una provincia di Salerno. E' la provincia di Napoli. No, no, perché io ho mio cliente giù, dottore che lui è di, dove è il suo paese, di Pesto, qui staremo a Pesto. Pestum, Pesto. E mi ha detto vai là, così, quando stavo durante il fratello, ha detto no, io non voglio, vi ho affittato tranquilli, facciamo cosa vogliamo. No, almeno noi andiamo. Niente. Lì è la nostra ultima distinzione. No, no, è vicino, eh? Sento no. Il castello al mare è giù. Il castello al mare. No, no, no. Ah, ma noi abbiamo tirato, andate a Salerno il primo giorno, qui suda il castello lassù. Sì, ma con la macchina. Sì, ma con la macchina. Ma tu sei scelto con la macchina da là. Sì, 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 sì. Ah! No, 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 io tutto con la macchina. Niente. Noi c'è del prossimo video, sui videogiochi. No, 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 no. Ah, e poi volevo dire, adesso è arrivato in Italia il mio amico Moser. e faremo dei video insieme per tanto tempo. Quindi magari un giorno abbiamo avuto un secondo canale. in cui voglio fare un gruppo. Sempre in giro. Comunque niente. Sponciate i like, commentate e iscrivetevi al mio canale. Se non siete ancora iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Non più un glanzo. Non è allora. Grazie.